Ciao ragazzi per questo nuovo video ragazzi non ci posso credere Il Giappone perde 3 a 2 contro il Belgio Era veramente una partita assurda Una partita assurda, un banco è bellissima ragazzi Appunto ragazzi il Belgio si qualifica per i quarti di finale Perché batte il Giappone 3 a 2 Si qualifica per i quarti di finale E incontrerà appunto il Brasile Il quarto di finale sarà appunto Brasile e Belgio Il Giappone torna a casa ragazzi Nella maniera secondo me più strana che ci potesse essere Perché infatti ragazzi Il Giappone stava vincendo 2 a 0 Il primo tempo E' finito 0 a 0 Ragazzi il Giappone nel secondo tempo Sembrava veramente Sembrava dopato Perché veramente non facevano toccare neanche una palla Ai giocatori del Belgio Il primo gol ragazzi molto bello E' incrociare Adesso non mi ricordo neanche come si chiama quello lì Perché ragazzi è difficile da pronunciare Il secondo gol ragazzi è ancora più spettacolare C'è veramente il 2 a 0 del Giappone Io non ci credevo Perché ragazzi il Belgio Una delle favorite per vincere questo mondiale Era quasi uscita da questo mondiale Secondo me ragazzi Se giocherà così il Belgio Così come ha fatto questa sera contro appunto Il Giappone Che ragazzi con il Brasile Subirà tante di quei gol a raffica Comunque ragazzi Il Belgio è riuscito anche ad avere una piccola reazione Niente di che finché Vertonghen si inventa un colpo di testa Che va a finire in rete Veramente incredibile Perché ragazzi quel colpo di testa era un cross Però c'è proprio quel bucio di culo che ti va a finire la palla in rete Ragazzi peccato per il Giappone Perché appunto sul 2 a 1 Poi appunto il Belgio prende fiducia Entra Fellaini Esce Martens Fa gol Fellaini di testa Ragazzi mi dispiace perché Col 2 a 2 ragazzi si sapeva che avrebbe vinto il Belgio Perché il Giappone non aveva neanche più le forze Ha spiegato tutto durante la partita Mi dispiace veramente tanto E poi ragazzi la fregatura più clamorosa Almeno dici Vabbè vado ai supplementari Me la gioco ai supplementari E poi caso mai calci di rigore No perché Chadli fa gol al 90 A tresimo e 50 secondi Sui 4 minuti di recupero Veramente incredibile Una delusione pazzesca Ragazzi immaginiamo se c'era l'Italia Se ci fosse stata l'Italia E stavamo vincendo 2 a 0 Avessimo subito 3 gol agli ultimi 20 minuti E tra cui 1 Proprio a 5 secondi della fine Cioè veramente ragazzi Questa sera Tutta l'Italia sarebbe andata A casa Cioè nessuno si vedeva Anco per le strade di Roma Quindi ragazzi Veramente è una cosa assurda Mi dispiace veramente tanto Ragazzi fatemi sapere la vostra Come sempre qui sotto nei commenti Io vi faccio un bel like Tutti il canale E bella Ciao 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 Grazie.